Cari fratelli e sorelle, buongiorno a tutti. Oggi è sabato 23 dicembre e ci mettiamo in ascolto del Vangelo di Luca dal capitolo 1 al versetto 55-66. In quei giorni per Elisabetta si compì il tempo del parto e diede alla luce un figlio. I vicini ai parenti udirono che il Signore aveva manifestato in lei la sua grande misericordia e si rallegravano con lei. Otto giorni dopo vennero per circoncidere il bambino e volevano chiamarlo quel nome di suo padre Zaccaria, ma sua madre intervenne. No, si chiamerà Giovanni e le dissero. Non c'è nessuno della tua parentela che si chiami con questo nome. Allora domandavano con cegni a suo padre come voleva che si chiamasse e gli chiese una tavoletta e scrisse Giovanni è il suo nome. Tutti furono meravigliati. All'istante gli si aprì la bocca, risolse la lingua e parlava benedicendo Dio. Tutti loro vicini furono presi da timore per tutta la regione montosa della Giudea. Si discorreva di tutte queste cose e tutti coloro che le udivano le custodivano in cuor loro dicendo che sarà mai di questo bambino e davvero la mano del Signore era con lui. Quando si adagia un bambino nella sua culla non c'è che contemplarlo come il riflesso del miracolo della vita. Ogni tratto, ogni particolare, il volto abbandonato nel sonno, le piccole manine, questo involucro di carne, già così armonioso, tutto d'essa meraviglia e incanto. Ma questa fragile creatura dovrà sfidare il mare aperto e infido dell'esistenza. Chi sarà mai di questo bambino? A poco a poco che l'età avanza, speranze e timori, sogni e preoccupazioni invadono quanti camminano vicino a questo bambino che dovrà farsi uomo. Nel battesimo gli si impone un nome che intende essere di benedizione e protezione. Le abitudini, le memorie familiari e tradizioni religiose ripetono e scoprono nomi antichi e nuovi. Dare il nome di un santo è un auguri e un proposito, qualcuno che lo ha preceduto nel cammino e nell'avventura cristiana e anche umana. Ma come per Giovanni, il vero nome di ogni uomo è scelto da Dio, è il germe della sua irrepetibile avventura umana e cristiana. È un nome misterioso, e dovrà essere scoperto, interpretato, vissuto, attraverso tutte le vicende dell'esistenza, soffrendo e gioendo, scegliendo e sbagliando, sempre alla ricerca di una vocazione unica e insostituibile, che segnata alla sorgente del nascere, si snoda a tessere in un destino per il tempo e per l'eternità. E una giornata buona a tutti voi.